Il mio intervento è incentrato sull'archivio documentale del regista. Qui è Gianfranco Brebbia, 45 anni, abito a Varese in via Cavour 34, quarto piano, e lì lavoro i miei film. A 12 anni fotografavo le auto in corsa che uscivano in fiamme dai circuiti automobilistici e tutto quanto mi capitava a tiro d'obiettivo. A 22 anni fotografavo la mia ragazza. Da 23 a 35 anni ho lavorato sodo per crearmi una piccola vita. A 35 anni fotografavo la mia città. A 38 ho girato la prima pellicola cinema. Da 38 a 45 anni ho fatto 200 films, 150 normali e 50 sperimentali. Quindi di sperimentali ho 750 minuti primi di proiezione. Tramite Jonas Mekas sono in contatto con Finstudio 70 di Roma. Il mio metodo di lavoro è vario, dal fotogramma singolo in posa al film di montaggio a tavolino, a quelli graffiati e dipinti a mano. I temi vertono sulla mia convinzione che il nuovo mondo sta sopraggiungendo veloce, spinto dall'underground cinema. In questa lettera del 18 gennaio 1969, inviata a Steve Dwoskin della London Filmmakers Cooperative, Gianfranco Brebbia delinea la sua figura di uomo e di regista innovativo e sperimentatore. Allo stesso modo il suo archivio rappresenta la prepotente volontà di fermare le numerose esperienze culturali che sta vivendo, al di fuori dei limiti di una vita professionale borghese che nella lettera definisce una piccola vita, rispetto alla sua curiosità poliedrica ed avida di saperi, letture e visioni sempre nuove. Oggetto costante della sua attenzione sono i giovani, la nuova arte, il cinema e la sperimentazione, ma anche la tecnica, la cui componente essenziale è per lui l'artigianalità della professione. Non dimentichiamo che Brebbia è un sarto, che per tutta la sua vita avrà un negozio di sartoria e poi solo confezioni nel centro di Varese. Egli traspone il lavorare con le mani, tagliare, cucire del suo fare professionale quotidiano, nel montaggio e nel trattamento delle pellicole cinematografiche. Il suo archivio sembra rappresentare, attraverso il racconto vorace delle sue esperienze artistiche e culturali, che ne fanno il più prolifico e sofferto tra i registi sperimentali, secondo le parole di Sirio Luginbull, un regista sperimentale padovano, un antidoto al suo tormento. Delineerò in estrema sintesi la biografia di Brebbia per contestualizzare quest'autore. La sua vita sarà raccontata in forma più ricca e articolata nel volume dedicato all'inventario del suo archivio di prossima pubblicazione. Gianfranco Brebbia nasce a Biumo Inferiore, Varese, il 2 maggio 1923, unico figlio di un piccolo artigiano di Crenna. Dopo i suoi studi presso la scuola di avviamento professionale dell'Istituto Salesiano a Milano, che lo avvia al lavoro di sartoria, nel dicembre 1943 fugge in Svizzera per sottrarsi alla leva della Repubblica di Salò ed è internato presso diversi campi nel Canton Bern e nel Canton Turgau. Alla sera, quando sono in camerata con i miei compagni, si parla sempre dell'Italia e delle nostre famiglie. Abbiamo pure la radio. Finita la guerra, rientra a Varese. Cominciai a lavorare per una ditta di confezioni, la quale mi dette giacche, palto, sopraviti da donna, così per guadagnare bene dovetti lavorare sodo. I buoni risultati professionali come dipendente lo spingono a mettersi in proprio, aprendo alla fine del 1950, dopo il matrimonio con Adele Righetti, da cui avrà due figlie, Giovanna e Paola, un laboratorio di sartoria nell'appartamento in cui vive, in piazza Cacciatori delle Alpi, e trasformando nel 1954 la vecchia bottega di barbiere del padre, in corso Matteotti 46, nel pieno centro di Varese, in un negozio di confezioni maschili. Ma è il 1962, attraverso l'acquisto della cinepresa Bolex by a Reflex H8, che segna una netta cesura nella sua storia personale. D'orin poi, senza mai abbandonare la fotografia, si dedica con passione crescente al cinema, prima documentaristico e poi sperimentale, con un incredibile entusiasmo conoscitivo. Il suo primo cortometraggio, non conservato in archivio, di tre minuti e cinque secondi, è Go-Kart, in cui filma la moglie Adele e le figlie Giovanna e Paola su piccole vetture da competizione su pista. I suoi cortometraggi, proiettati in serate organizzate da diversi cineclub locali, hanno un grande successo e riscuotono il favore del pubblico e degli addetti ai lavori, attraverso una serie di riconoscimenti. Dal 1967, però, i consensi non sono più unanimi. La critica e il pubblico si spaccano tra estimatori appassionati e duri oppositori. Gianfranco usa un linguaggio nuovo, frutto di una costante ricerca. L'evoluzione è prodotta a partire dal 1965, dall'incontro e la frequentazione, sempre più assidua, di Franco Ravedone e di un gruppo di giovani artisti varesini, Sandro Boldi, Aldo Ambrosini, Luciano Emaud Giaccari, Giancarlo Fabi, Carlo Mattoni e Vittore Frattini. La frequentazione del mondo artistico di quegli anni, prima solo varesino, poi anche milanese, vicino all'arte concettuale, stimola i suoi interessi, affini i suoi gusti, amplia le sue letture. La sua produzione filmica evolve a veri e propri cortometraggi sperimentali, dalle pellicole graffiate o colorate a mano. Seguono nelle tre slide successive degli esempi di pellicola. Abbiamo questa e poi quella che avete visto prima, con la pellicola forata. A partire dal 1968, Brebbia amplia le sue conoscenze artistiche e culturali, frequentando il Club Nuovo Teatro, primo film studio milanese diretto da Franco Quadri, attraverso il quale conosce il cinema sperimentale di autori stranieri. Peter Kubelka, Marcopulos, Mekas, Warhol e il cinema underground di diversi paesi. Ed entrando in contatto con Bruno Munari, Christian Tobas e Fernanda Pivano. In questa slide, un'immagine disegnata e annotata dallo stesso Brebbia dell'incontro America Letteratura, tenutosi alla libreria Campo 4 di Varese, con Fernanda Pivano. Nel 1968, Gianfranco Brebbia entra a far parte della Cooperativa di Cinema Indipendente, nata nell'anno precedente, con la finalità di raccogliere e promuovere opere di autori di cinema sperimentale, su modello delle più celebri cooperative di registi underground di New York e Londra, estringendo rapporti con i suoi giovani registi, Anna Laiolo, Guido Lombardi, Giorgio Turi, Gianfranco Baruchello e Massimo Bacigalupo. La vita borghese di Gianfranco Brebbia in questi anni di grande creatività diventa sempre più difficile. Il suo malessere cresce. Gli ultimi anni sono concitati in un vero e proprio furor artistico. Prosegue la sua attività cinematografica sperimentale, già stigmatizzata in un articolo della Prealpina del 1968, Astrattismo cinematografico al Cine Club, in cui il giornalista dice L'espressione astratta nell'enunciazione filmistica del Brebbia è arrivata all'estremismo, al parossismo, alla nevrosi, che rasenta l'isterismo. Si dedica all'arte del collage, entra in politica, sedendo in Consiglio Comunale quale membro del Partito Socialista Unitario, poi diventato Partito Socialista Democratico Italiano, si avvicina infine alla religione attraverso la frequentazione del suo vecchio professore di matematica al Collegio Salesiano di Milano, Don Renato Valdorra, trasferito a Siavarese. Muore tragicamente all'alba del 7 gennaio 1974. L'archivio Brebbia è un archivio di personalità. L'archivio di Gianfranco Brebbia è costituito da un piccolo, ma ricco fondo che attesta la storia della sua famiglia, della sua vita, della sua passione per il cinema e dell'epoca in cui ha vissuto. Inteso come una vera e propria narrazione di sé, il fondo archivistico testimonia il desiderio di Brebbia, di ricordarsi e di ricordare se stesso agli altri. Se nella definizione classica un archivio è il complesso di documenti, prodotti acquisiti da un ente pubblico privato durante lo svolgimento della propria attività, gli archivi di personalità rappresentano una sorta di specchio in grado di mostrare l'immagine che ciascuno ha di sé e che vuole rivelare agli altri. Dalla selezione effettuata, dalle omissioni e cesure, dagli scavi della memoria e dal recupero dei documenti, scaturiscono a volte indizi che, come in tutte le narrazioni autobiografiche, ci mostrano l'immagine di sé che il soggetto ha tentato di costruire. Gli archivi delle personalità sono il frutto di un'azione volitiva del loro produttore che può definirne entità e contenuti. L'immagine che emerge da questo archivio non è quindi un'immagine innocente, ma costruita con consapevolezza in cui forte è il desiderio di lasciare traccia. L'attività di valutazione delle carte, anche se nel caso di Brebbia ha maglie molto larghe, determina quel gioco di pieni e vuoti, presenze e assenze che tanta importanza ha nella costruzione dei confini della memoria. Anche in questo gioco, però, le lacune più evidenti dell'archivio di Gianfranco Brebbia non sono frutto di una volontà selettiva, ma causate da dispersioni successive alla sua morte, traslochi, varie perdite, come capita. Un messaggio in bottiglia, quindi, rimasto a fluttuare per anni sul filo del tempo e della memoria, che l'archivista, attraverso la sua funzione ermeneutica, trascodifica in parametri di lettura idonei al proprio tempo. Secondo Stefano Vitali, direttore dell'Istituto Centrale degli Archivi, il ruolo dell'archivista è quello di gettare un ponte fra culture separate nel tempo e nello spazio, annodando i fili che attorno all'archivio si dipanano e si intrecciano. I due estremi riconosciuti, entro cui opera un archivista, sono la descrizione del documento e la definizione del contesto. Nel caso dell'archivio Brebbia, il lavoro di riordino e inventariazioni si è mosso in questo spazio consueto, amplificato dalla presenza di Giovanna, una delle figlie, che è qui in foto, strumento prezioso per la contestualizzazione delle carte e l'identificazione dei soggetti delle immagini, in un continuo studio dialogante che ha coinvolto anche la sorella minore Paola. L'archivio, in senso lato, non strettamente legato alla sola produzione documentaria, ha una consistenza di 535 fascicoli con corrispondenza privata e carte collegate all'attività professionale ed artistica, programmi di club cinematografici e ritagli di quotidiani e periodici che spaziano dal cinema alla politica, cronaca, scienza e religione. 1.409 fotografie familiari e di eventi inserte nei fascicoli, 1.559 diapositive distinte in 122 serie e servizi fotografici riconosciuti, 46 pellicole cinematografiche superstiti dei circa 200 film realizzati, 63 LP, soprattutto di musica jazz classica, spesso usati come colonne sonore durante le proiezioni, un nastro audio in cui Gianfranco Brebbia imita Staglio e Olio, una cassetta audio con registrazioni di alcune conversazioni telefoniche con amici artisti, Baruchello, Colombo, Isaia, Isgro, Giaccari, Palazzoli e Uboldi ed infine sue opere d'arte. Tra il 1970 e il 71 Gianfranco Brebbia realizza alcune opere a collage con tecniche miste e l'utilizzo di materiali diversi, se ne conservano sei. Esisteva anche una biblioteca a una raccolta di periodici a cui Brebbia era abbonato, panorama, cinema e film, marca 3 e pianeta, essenziale per delinearne la biografia intellettuale, però andata dispersa. La struttura del fondo documentale, vale a dire dei 535 fascicoli, rispecchia l'ordinamento originario dato alle carte dallo stesso Brebbia, in cui sono state riconosciute cinque serie. La storia familiare, primo, secondo cinema letteratura, terzo gli scritti, quarto contenitori e quinto diapositive. La prima serie, quella della storia familiare, è distinta in fotografie, documenti e carteggio. La seconda serie, cinema letteratura, è scandita secondo i raccoglitori originali ad anelli che hanno assunto nell'economia strutturale del fondo la dignità di sottoserie. Ognuna riporta al titolo originale manoscritto sul dorso da Brebbia, quindi cinema 60-65, 66-67, via discorrendo. La terza, scritti, conserva un quaderno raccoglitore rosso di dieci pagine a tasca contenente alcuni scritti di Brebbia, composti tra il 1967 e il 68, corredati da fotografie di famiglia. La quarta, i contenitori, in cui sono conservati i raccoglitori originali non utilizzati, ma chiaramente conservati perché materiali non adatti alla conservazione perenne, infine le diapositive, recuperate dopo anni di oblio nella cantina di famiglia e riordinate secondo 122 serie e servizi fotografici riconosciuti. Giunti in estremo disordine se non per alcune serie conservate in contenitori d'epoca e contrassegnati da notazioni manoscritte di Brebbia, comprendono immagini private dal 1950 circa al 1973 di eventi culturali varesini e milanesi e relative alla sua produzione filmica. Secondo i principi archivistici del metodo storico che costituisce l'unico sistema per restituire la parola a chi ha prodotto, organizzato e conservato le carte e per svelarne valori, gerarchie, cultura e psicologia, si è affrontato l'archivio nel rispetto della sedimentazione originale, individuando temi e fascicoli, chiavi d'accesso fondamentali per la consultazione del fondo. Il fondo archivistico, costituito probabilmente a partire dai primi anni 60, raccoglie puntualmente carte, ritagli stampa e immagini in un metodico lavoro di documentazione. Alla raccolta di materiali cartacei seguiva un lavoro di composizione e montaggio su fogli bianchi inseriti in raccoglitore ad anelli. Le pagine così composte erano una sorta di collage con fotografie, articoli, testi manoscritti, didascali e annotazioni a commento. La documentazione a stampa conservata individua un percorso tematico attraverso un materiale difficile da reperire, penso ai programmi di tutti i cineclub locali i cui archivi sono oggi dispersi. In un panorama in cui è difficile trovare un archivio di personalità completamente ordinato dal suo soggetto produttore o giunto fino a noi in questi termini, l'archivio di Gianfranco Brebbia nonostante le piccole lacune rappresenta un vero e proprio unicum. Manca tutt'oggi un censimento completo degli archivi del cinema non limitati alle sole pellicole ma relativi anche alla produzione documentale dei diversi autori cinematografici. Per quanto riguarda il cinema sperimentale italiano poi i film della maggior parte dei registi della cooperativa di cinema indipendente di cui Brebbia faceva parte sono conservati presso la Cineteca Nazionale di Roma ma le diverse carte sono in parte disperse e in parte ancora presso i legittimi proprietari il più delle volte non riordinate e prive di qualsiasi strumento di corredo. Unica eccezione è forse l'archivio di Giorgio Turi membro della cooperativa donato nel 2014 dal regista stesso con un consistente fondo bibliografico alla biblioteca Luigi Chiarini del centro sperimentale di cinematografia di Roma. L'archivio Brebbia è rimasto per oltre 30 anni dopo la morte del regista nella cantina della moglie a Dele Righetti. L'ultima cinepresa la Patè di S8 Double Super 8 è andata smarrita e una parte delle carte dei filmati dispersi. L'archivio è stato depositato presso il centro internazionale in subrico Carlo Cattano e Giulio Preti dell'Università di Varese mentre i suoi film sono ora conservati presso l'archivio storico del film della Fondazione Cineteca Italiana Milano. Infine ricordo che gli archivi si rivelano carichi di intense risonanze affettive e di un'irresistibile forza di attrazione che ci ha permesso di riportare in luce dopo l'oblio di molti anni parole, idee, immagini e sensazioni di un uomo straordinario solo contro tutti fino a qualche anno fa dimenticate. Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.